Tocchi si rivede a Telefoggia, Tonio Sepa, è un ritorno gradito, un rientro in sfondo calcistico perché partiremo domani con una nuova produzione, Tonio? Sì, partiremo con l'intento di divertirci, di seguire tutto quello che accade di calcio in Capitanata, tra l'altro oggi abbiamo due esperienze importanti, quella del Foggia naturalmente è quella del Cerignola che è approdato nella categoria dei professionisti. Dunque è una maniera per sentire più vicini il calcio foggiano e di Capitanata in generale e cercare di seguirlo nel miglior modo possibile. La trasmissione si chiamerà Direttiamoci, andremo in onda in concomitanza con le partite del Foggia, dell'Audace Cerignola, della Serie C, Spazio anche ovviamente in contemporanea le partite delle altre serie, le altre categorie che si giocheranno, sarà una trasmissione come sarà articolata, Tonio? Beh, indubbiamente con tutti i limiti che la Lega ha imposto quest'anno per quanto riguarda i contributi dallo stadio, cercheremo di avere ospiti, di avere interviste, servizi vari effettuati durante la settimana, per cercare di avvicinare di più ancora il popolo foggiano a quello del calcio, insomma, se ce ne fosse bisogno, considerando l'acquaglienza che è stata attributata al Foggia proprio nella presentazione. Ma anche a Cerignola c'è molto entusiasmo e molta voglia di fare bene in questo campionato. E poi ci sarà una sorta di sfogatoio dopo la partita, la possibilità ai tifosi che nel frattempo sono rientrati dallo stadio, che hanno finito di vedere la partita, in ogni caso di poter dire la loro, una sorta di processino, diciamo così, alla partita rispetto a quello che è accaduto nei 90 minuti, su tutti i campi, chiaramente, con un occhio particolare su Foggia e Audace Cerignola. Beh, credo che sia il momento più importante della trasmissione, perché dare la possibilità a chi ha visto la partita, sia in televisione che allo stadio, di poter esprimere il proprio giudizio. E si sa, il giudizio porta molto entusiasmo, soprattutto quando i risultati sono positivi. Non resta dunque che dare l'appuntamento ai nostri telespettatori a domani sera, prima giornata di campionato, si comincia con Foggia Latina allo Zaccheria, ore 20 e 15, collegamento dai nostri studi, Tony. Sì, 20 e 15, dunque, per anticipare un po' quelle che saranno poi i contenuti delle partite e quindi poi successivamente, dopo la partita, come abbiamo già specificato, apriremo le nostre linee telefoniche al pubblico con la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio giudizio su quanto è accaduto sui campi. E ci saranno anche delle sorprese per il pubblico, poi non anticipiamo niente, magari lo direi domani. Buon lavoro intanto. Grazie Carmine e in bocca al lupo naturalmente a tutto il calcio di Capitanata.